Ho capito, è abbastanza ovvio. Sei una brava ragazza. Essere perfetta ti mette sotto pressione. È buffo come a volte è più facile essere se stessi con degli sconosciuti che con i nostri amici. Non avevi alcun tipo di rapporto con Jackson? No. Sei entrato in casa mia. Quindi per la legge posso ucciderti. Io, io non sono così. Non sono... Io? Il killer indossava una maschera con la faccia della vittima rendendo pubbliche delle informazioni riservate. Jackson Pace ha perso la partita della vita. Spero servano Fireball in paradiso, fratello. Ora voglio morire io. Non ha senso. Perché il killer ha preso di mira Jackson? Nascondeva segreti. Attento là fuori, caro. Ci sono dei cazzoni matti in questa città. Io ho un segreto. Ho investito senza volere un autostoppista e ho buttato il suo cadavere nell'oceano. È brutto? C'è qualcuno con la maschera della faccia di Rodrigo? Voi ragazzi siete ciò che siete. Non avete segreti. Non possiamo più nascondere niente. Ma cani, io so chi sei. Qualunque sia questo giochetto. Qualunque cosa tu pensi di sapere. Non sei un cazzo! Conosci il mio segreto? Il killer è qui. Indossa una maschera della mia faccia e mi costringe a registrare discorsi d'odio offensivi con un cont... Un Un Grazie a tutti